10 consiglieri comunali pronti a far cadere l'amministrazione di Sulmona. Manca però l'undicesimo. Si dichiarano decisi l'intera opposizione Rialzati Abruzzo. Iannamorelli, Di Benedetto, Marinucci, Santilli, Gattaranalli, Maceroni, Manasseri, La Civita e Dedeo in una nota scrivono 11 consiglieri possono far cadere l'amministrazione, 11 possono costituire una nuova maggioranza. Noi siamo pronti a sbloccare la situazione ma facciamo appello perché in tutti prevalga il senso di responsabilità e non l'attaccamento alla poltrona o peggio il gioco a rialzo di una politica sotto traccia che a quanto pare continua. A questo punto potrebbe essere determinante Luigi Rapone dell'Udc, vero ago della bilancia. Le sue recenti uscite però non hanno lasciato ben intendere l'effettiva posizione. Nel frattempo attendono gli otto rappresentanti della minoranza e i due di Rialzati Abruzzo che giuricano insostenibile la paralisi amministrativa. Il sindaco, si legge nella nota, aveva annunciato che la giunta sarebbe stata ricostituita tra martedì e mercoledì. Sono invece passate due settimane e la città è ancora senza guida perché il sindaco è senza maggioranza. Sono caduti nel vuoto tutti gli appelli al buonsenso mentre la Palazzo San Francesco si tende a minimizzare con i deliberati del Consiglio Comunale che rimangono inattuati, la struttura tecnica che prevarica le scelte democratiche.